Saranno rivolti a quei millenove elettori, a quelle schede, ai nomi che verranno scritti su quelle schede e verrà giudicato, ma non dagli analisti, dei commentatori o negli studi televisivi, da un pezzo importante del popolo italiano, la qualità, la credibilità, l'autorevolezza, la reputazione dei nomi che usciranno da quelle schede e soprattutto del nome che sostituirà Sergio Mattarella. Perché ci sarà un nome che sostituirà Sergio Mattarella? Non crede Cuperlo al Mattarella bis? Non credo al Mattarella bis in questo momento per le ragioni che sono state dette tante volte e anche per un rispetto profondo nei confronti di un Presidente della Repubblica che è stato un esempio di saggezza, di equilibrio e anche di coraggio nelle scelte che ha compiuto. Dopodiché è evidente che soltanto in una condizione di eccezionale emergenza e torna a rompere nella nostra discussione il capitolo della pandemia è l'incartamento, diciamo così, di quel Parlamento. Potrebbe essere, quindi non nei termini, il piano segreto, qui come una stampa mi pare. Ma di solito nella politica italiana i piani segreti non ci sono. I piani segreti finiscono come la sceneggiatura dei cartoni di Willy il Coyote, i piani segreti. Hanno questa tendenza. Finiscono per abbattersi in un dirupo. Marco Bresolin, allora...